ok quando vuoi proprio bello oh 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 che bomba no è decisamente vicino e poi ho notato oh ho dei problemi a fermarmi derapatine derapatine oh oh decisamente mi si stanno solo staccando le dita dalle mani beh devo dire che come primo sentiero di giornata si tranquillo con una bella tenuta poco ripido un perno un perno un perno un perno un perno chiamato un perno un perno un perno un perno un perno puttana che freddo le dita non mi sento più gli indici come è questa moterra come è questa moterra attenzione punticello leggermente smussati i paletti di ferro gravi Grazie a tutti.